La partita Otranto-Leverano, ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di promozione anticipato a oggi, vedrà contrapposte due squadre dal morale alto. L'Otranto infatti ha ritrovato la vittoria che mancava dal 9 novembre, avendo battuto il terza 3-0 nella tredicesima giornata di campionato. Il Leverano invece è vittorioso da sei giornate ed è terzo in classifica a tre punti dalla capolista Fragagnano. La squadra bianconera, che domenica ha vinto 1-0 sul campo del Maglie, ha acquistato nel calciomercato di dicembre il difensore Pierfrancesco Rollo, la punta Mattia De Luca, il centrocampista Mamadou Berri e Tourè, senegalese che esordisce in Italia. Ingaggiati pure Antonio Di Silvestro e Lorenzo Franco, centrocampisti centrali provenienti dal Nardò, i quali potrebbero esordire in bianco o nero nell'odierna sfida. L'Otranto ha acquistato l'attaccante Maurizio Ruberto e il difensore Marco Malerba, che potrebbe debuttare in bianca-azzurro nella partita che comincerà alle 14.30, nella quale gli Idruntini proveranno a ribaltare l'1-0 dell'andata.